Politiche attive per il lavoro, formazione gratuita per le imprese e un'ampia offerta di misure aggivolative. Tutto questo aiuterà la creazione di nuove aziende, mentre a quelle già esistenti consentirà di diventare più competitive e innovarsi. Di questo si è discusso nell'evento informativo presso le ufficine Cantelmo Lecce Futura, competenze, incentivi e innovazione per il Salento del futuro, organizzato da Programma Sviluppo e Asi. Misure che riguardano sia le imprese sia anche i giovani, quindi i giovani con idee imprenditoriali che vogliono sviluppare la loro idea di impresa. Come misure vanno da Cultura Crea, quindi tutti gli ambiti e le iniziative che possono ricadere nell'ambito culturale, ma non solo, ma anche nell'ambito turistico. Anche in termini di politiche attive abbiamo un bel po' di risorse, più le risorse messe a disposizione dal Governo nazionale nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Non vi può essere un salto di qualità vera senza un'ottima utilizzazione delle risorse provenienti dalla formazione. L'attività di informazione sulle opportunità di crescita e di sviluppo legate alla formazione devono essere immediatamente rese disponibili alle imprese perché possano cogliere le occasioni.